in questo video andiamo a vedere un brano dal titolo bufera del maestro la mano è una mazzurca adesso io farò l'ascolto e poi vediamo in dettaglio come dobbiamo eseguirla 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 iniziamo con l'introduzione si parte dal 6 più in apertura con il battuto che fa così quindi ripartiamo parto col terzo tito poi andiamo sul 6 col secondo poi col quarto tito andiamo sull'8 e facciamo 8 6 più 6 la stessa cosa in chiusura adesso chiudiamo il 7 quindi ho fatto 7 il 5 6 più ecco adesso attenzione qui che c'è un'inversione di mantice quando facciamo questo a chiudere quindi sarebbe e insieme sarebbe il 6 6 più e il 9 quindi viene questo e questa è l'introduzione adesso partiamo con la prima parte bene vediamo come si esegue la prima parte allora partiamo dal 4 e poi abbiamo 6 e 7 insieme quindi facciamo queste due quindi facciamo così 6 più 2 volte 7 ripeto eh apro 8 e 6 più poi ripartiamo con il 4 a chiudere mentre se hai il doppia fila puoi partire con il 3 più noi facciamo col 4 a chiudere e apri il 7 e 8 9 ribattuto si chiude 6 più e 7 quindi quindi sarebbe poi si rifà uguale all'inizio adesso si cambia chiudiamo chiudiamo aprire ripeto tutto di seguito questo questo è è è è è è è è possiamo vedere con i bassi direttamente allora, con i bassi introduzione, facciamo i bassi insieme in apertura quindi li metto qua sul secondo 6+, secondo 7 quindi quindi va sempre sul prima parte qui partiamo con il basso sul 6 e 7 qui partiamo con il basso ok siccome la maggior parte sono terzine praticamente quando faccio questo qui sono due note e queste sono terzine quindi ogni basso quindi ogni basso che facciamo con la sinistra inseriamo tre note con la destra qui Grazie a tutti. Grazie a tutti.